Benvenuti su Tim Tech, io sono Federico e oggi parlo di Netgear Orbi nella sua versione RBK20 quindi una versione abbastanza recente che funziona benissimo e che ha risolto il mio problema con il wifi vi spiego qual era il problema e vi spiego come funziona questo router veramente ben fatto non entrerò troppo nelle specifiche di questo prodotto perché potete leggerle tranquillamente sul sito di Netgear ma vi dirò come funziona e come mi sono trovato e fondamentalmente che cos'è perché è un router, un router, chiamatelo inglese o nella sua pronuncia italiana di altissimo livello è composto da due satelliti prima però di spiegarvi tutto partiamo dalle basi questo prodotto va dopo il vostro modem quindi voi installate il modem del vostro operatore nel mio caso è FastWeb dopodiché potete sfruttare il wifi del modem dell'operatore che tendenzialmente funziona abbastanza male io in questo momento ho il FastGate di FastWeb non funziona male ma non è neanche un wifi di alto livello oppure potete comprare dispositivi esterni per sfruttare la vostra rete wifi e quindi per estendere il vostro segnale wifi all'interno di casa questa secondo me è la soluzione ideale per chi ha abitazioni abbastanza grandi anche abitazioni di 100 metri quadri sono tendenzialmente difficili da coprire solo con il wifi dell'operatore e qui quindi vi viene in sostegno Netgear Netgear ha studiato questo sistema per far sì appunto di coprire al meglio tutte le parti dell'abitazione fino a 250 metri quadri 250 metri quadri secondo me stiamo un po' al limite ma tendenzialmente fino a 150-170 metri quadri quindi secondo me riuscite a coprire bene la vostra intera abitazione dovrete installare un ripetitore principale che trovate in confezione all'uscita del vostro modem quindi collegandolo con un cavo Ethernet e poi dovrete installare il satellite all'interno di casa vostra si può espandere il sistema anche con altri satelliti in caso di abitazioni particolarmente grandi ma io ho provato nella configurazione con ripetitore principale e satellite ognuno di questi due elementi poi ha varie porte ma le due fondamentali sono le 2 gigabit Ethernet secondo me perché vi danno la possibilità ad esempio se avete il modem distante dalla vostra console di gioco vi danno la possibilità di installare appunto il ripetitore principale collegato con il modem e il satellite vicino alla vostra console e collegarla però direttamente via Ethernet appunto gigabit il che è una soluzione secondo me molto molto interessante una volta completata questa installazione attraverso l'applicazione voi effettuerete il pairing tra il ripetitore primario ed il satellite ed otterrete la vostra rete wifi io vi consiglio quando fate questo lavoro di disattivare il wifi del vostro modem voi installate Netgear Orbi disattivate il wifi del vostro modem quindi avete anche una saturazione delle bande inferiori in casa vostra e attraverso l'applicazione voi effettuerete il pairing tra il ripetitore primario ed il satellite imposterete il nome della rete wifi e la password voi direte è un router o un router chiamatelo come volete standard, normale no è qui che Netgear secondo me ci mette del suo è qui che Netgear ci mette del suo perché i due elementi quindi il ripetitore primario e il satellite vanno a creare una rete wifi molto più estesa rispetto a un normalissimo router e quindi vi danno la possibilità di coprire un'area di casa molto più ampia ora io vi faccio vedere lo speed test effettuato con la mia prima configurazione quindi router più avevo un ripetitore wifi della Xiaomi e vi faccio vedere cosa ottenevo in camera mia che è la parte, il punto più distante della casa rispetto al router dal ripetitore anche sto a circa 10 metri con un disturbo molto alto perché c'è un muro portante in mezzo e una colonna di cemento armato quindi vi faccio vedere uno speed test e sarà sicuramente abbastanza negativo come potete vedere ping molto alto segnale che viene abbastanza rallentato dal ripetitore dal computer la situazione è un po' migliore perché un po' migliore non si dice la situazione è un po' meglio perché le antenne ovviamente sono più potenti ma non è ottimale la differenza in termini di velocità in termini di ping, in termini di jitter è molto importante la connessione è più stabile è più veloce ottengo meno degradamento della linea rispetto a quando sono vicino al router e quindi sostanzialmente voi avrete casa coperta non dico come se foste attaccati al router molto vicini al router ma con un degradamento del segnale veramente molto basso almeno da quello che ho sperimentato io e questo difficilmente l'ho ottenuto con altri router anzi non l'ho mai ottenuto con altri router inoltre quello che mi è piaciuto di Netgear Orbi è che la configurazione attraverso l'applicazione è veramente basilare banale voi non dovrete far altro che scannerizzare il QR code che è presente in confezione che è presente qua dentro e lui farà tutto voi dovete solo scegliere il nome e la password del wifi banale alla portata di tutti e che non necessita di configurazioni successive io nel corso della prova ho anche cambiato operatore telefonico sono passato da Team a Fastweb e non ho dovuto riconfigurare il Netgear Orbi è consigliato farlo ma io non l'ho fatto e non ho avuto alcun problema perché semplicemente voi cambiate il modem dell'operatore il cavo Ethernet rimane collegato con l'Orbi e voi lo ricollegate col nuovo modem dell'operatore quindi anche in caso di cambio dell'operatore non ho avuto alcun problema gli aggiornamenti software sono automatici sia dell'applicazione attraverso Play Store o App Store sia dei due elementi e questo è un altro elemento di autonomia totale del sistema rispetto ad altri dispositivi che magari richiedono un po' più di competenza poi dell'utente finale l'applicazione inoltre vi dà tutte le possibilità dei router più avanzati vi dà la possibilità di creare delle password ospiti in caso abbiate appunto ospiti in casa a cui non volete dare la password principale oppure nella vostra attività commerciale vi dà la possibilità di effettuare delle priorità sui dispositivi vi dà la possibilità di eliminare dispositivi e di bloccarli dall'accesso alla rete di monitorare la velocità della rete di monitorare il traffico di inserire un parental control che filtri appunto i siti di gestire i vostri satelliti insomma vi dà un'infinità di possibilità che trovate comunque spiegati sul sito di Netgear e che funzionano tutti alla perfezione quello che mi ha subito il progetto è che non ho critiche da fargli cioè non ho trovato degli elementi che mi facessero pensare ok qui Netgear avrebbe potuto fare meglio in questo caso Netgear non avrebbe potuto fare meglio perché tutto funziona come dichiarato dalla casa non ho potuto testare in termini di velocità massima la portata del wifi è dichiarato il supporto fino alla gigabit quindi fino a non fino a fino alla gigabit ma fino a 800 megabit per secondo non l'ho potuto testare perché ho una linea che attualmente viaggia a 30 mega con un ping che uscita tra i 7 e i 10 millisecondi quindi non ho potuto fare ulteriori test ma come avete visto pinga sempre bassissimo anche attraverso il wifi quindi segno che l'hardware di questo Orbi funziona bene per il resto stabilità non ho avuto problemi in queste settimane insomma ho veramente difficoltà a fare alcune critiche a Netgear nemmeno costruttive perché veramente tutto ha funzionato alla perfezione e mi ha stupito onestamente se avete un'abitazione molto grande o semplicemente avete un'abitazione con muri molto spessi e quindi anche magari un'abitazione di 100 metri quadri non viene coperta dal router io vi consiglio questo Orbi io ho provato la versione RBK20 che differisce dalle top di gamma per avere meno porte mi pare ma non sono certo perché non ho avuto modo di provare le altre quindi ve la straconsigliamo può essere un prodotto che acquisterò anche dopo la prova perché veramente mi ha sorpreso per oggi è veramente tutto se avete domande su Netgear Orbi fateci sapere qui sotto seguiteci sui social su Instagram su Facebook e ovviamente mettete like e iscrivetevi qui a YouTube un saluto da Federico per Team Tech ciao ciao